Signore e signori, a tutti gli amici presenti, buonasera! In occasione del Capitano Cinese, cioè della festa di primavera dell'anno del cavallo, che si avvicina a grandi passi, gli artisti cinesi ci hanno raggiunto in Italia per portare gli auguri dell'Oriente nella speranza di godere della magia e della gioia di questa festa. Insieme a tutti voi, all'ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, signore Di Reiyu, e al sindaco di Roma, signore Ignazio Marino, che dipingeranno gli occhi ai leoni sul barco. Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.